Buon poveriggio a tutti, la ventiduesima giornata della campionato di Serie A tra Dolomita e Energia Trentino e Carpegna Prosciutto, Pesaro. Lo scarico, posizione frontale, buon canestro sull'uscita tardiva di Biliga. Di Biliga, la tripla a segno, è entrato Hub ma c'è la palla persa ancora una volta e l'ha schiacciata, questa volta in contropiede di Totem. Bamford tira senza guardare, una tripla da otto metri e mezzo. La penetrazione con sospensione da parte di Kamar Baldwin. Pallone sotto per Biliga contro Tambone, deve allontanarsi da canestro, grande sospensione. A proposito di costruire Alvitico non segue la sua grande presenza in campo, 27 a 22. Adesso l'alli-hop strepitoso di Cinciarini per Totem, palla un metro e mezzo dietro il canestro. Palla Baldwin frontale da tre punti, assegno per Kamar Baldwin. Canestro di abilità questo di Ray Forman. Lo scarico, per Totem, la stoppata di Grasuri. Dobbiamo matchare la loro aggressività, dobbiamo cercare di correre il campo, di prendere rimbalzi, correre e quando siamo liberi, tirare e giocare la nostra palla a canestro. Muni, l'appoggio a canestro. Baldwin, il blocco di Biliga, la tripla, assegno di Kamar Baldwin. Vanford, tripla, assegno anche questa. Lo scarico in angolo, Muni, piedi per terra, la tripla, assegno. Muni molto, molto lontano, tenta ugualmente la tripla e la mette. Lo scarico per Hub, l'appoggio a canestro, il settantesimo punto. Tambone, Ray Forman, tiro immediato e tripla. 71-58 al Viti, l'uscita dal blocco, la tripla e il fallo subito. Raid Forman in acrobazia. La tripla dall'angolo di Forrai. Manca l'intervento in anticipo al Viti in qualche modo. McDuffie con difficoltà riesce a inerpicarsi. Adesso Baldwin prende la rincorsa e affonda. Al Viti, passaggio al volo per Muni, l'alliup con l'acrobazia ancora da parte di Baldwin. Intanto c'è l'appoggio a canestro di Ray Forman. Il recupero ennesimo adesso di Al Viti, la schiacciata morbida, una mano. Finisce la partita, 109, Dolomiti Energia, Trentino, 82, Carpegna, Prosciutto, Pesaro. But we stay with it, you know, we stay together and we just keep doing the right things, you know, the wins that come. So we just gotta continue to do the right things each and every day in practice and in the games.